Ciao da Mike, benvenuti a questa nuova puntata della Trend Chart, la classifica delle 20 canzoni trends della settimana. Ogni domenica sul mio canale YouTube pronto a farvi emozionare con le 20 canzoni più forti, sempre con me e Mike. Oggi è il 3 giugno, quindi inizia il mese di giugno, il primo mese dell'estate, quindi una buona estate a tutti, manca una settimana alla fine della scuola, quindi finalmente potremo godere delle nostre vacanze. Partiamo subito, avremo una nuova entrata e si tratta del nuovo singolo di Dave Nevin e Nelly White, si intitola Try For Me. Ciao da Witness! Grazie per la visione! 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 Oh, don't know where this love has taken us now Breathe us tonight, before it dies We can't deny the virus, signs that kept us alive Breathe us tonight, melt through the ice Cause I know the spark is still inside this heart of mine Breathe us tonight 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti